Come nei cartoni animati alla fine della conferenza stampa delle opposizioni al comune di Campobasso, le uniche stelle che si vedono sopra Palazzo San Giorgio non sono quelle del movimento grillino che ha guidato per cinque anni la città, ma quelle delle randellate politiche che il centrodestra all'unisono ha rifilato all'amministrazione uscente. È un bilancio a tinte cupe e dai contenuti insussistenti quello che a fine mandato i pentastellati consegnano alla città e questo è il giudizio affilato e secco delle opposizioni che denunciano inefficienze, incongruenze, fallimenti e danni prodotti in questi anni, dalle piste ciclabili al trenino elettrico all'ultima inutile trovata, secondo le opposizioni, di un tunnel che sforacchia la città da Piazza della Repubblica a Via Genova, accessorio di un parcheggio sotterraneo multipiano, un chilometro e cento metri per 7 milioni di euro. Io ho attaccato ferocemente perché ne ero convinto la scelta del trenino elettrico nella collina Monforte, è stato scassato questa iniziativa e ne mettono in campo un'altra. Il parcheggio multipiano che serve alla città in Piazza della Repubblica o qualche dubbio che sia il luogo migliore, loro decidono di collegare quel luogo con la parte sottostante, quindi dando un nuovo ingresso alla città a Via Genova, realizzando nel progetto un tunnel di un chilometro e cento metri per un costo di circa 7 milioni di euro, un tempo dei lavori che si aggira sulle carte a tre anni, vi lascio immaginare che non sarà così e io sono veramente molto spaventato. Quando invece il dialogo con la regione sarebbe stata la cosa più intelligente, il cantiere poteva essere immesso nell'area dell'ex Romagnoli e non avrebbe creato nessuna difficoltà alla città. Sempre dal fronte delle opposizioni è stata protocollata la richiesta di un consiglio comunale monotematico dedicato alla SEA, la società che si occupa di servizi ambiente, il cui capitale sociale è in mano al comune per il 100% delle quote e le opposizioni chiedono chiarezza sulla gestione della società. Abbiamo il piacere quasi quotidianamente di leggere l'amministratore delegato della SEA sui giornali, in tv, non la vediamo mai più in commissione, aspettiamo ancora un piano industriale, poi leggiamo degli atti di operatori ecologici che hanno lo stesso cognome di qualche funzionale, di qualche dirigente che vengono spostati in ufficio e quindi rimaniamo un po' sbarorditi perché i 5 Stelle erano la trasparenza, erano la legalità, erano quelli che dovevano aprirci come sardine e poi soffinte come scatolette di tonno. Quindi detto questo il monotematico serve perché non abbiamo il vizio che avevano loro qualche anno fa di andare in procura. Noi pensiamo che il dibattito viene fatto in consiglio e in consiglio è sovrano al sindaco e all'amministratore della SEA. Le elezioni di giugno di fatto sono alle porte e il fronte del centrodestra si muove compatto ribadendo le critiche e lavorando per una vittoria che vede a portata di mano. Io ho sempre ribadito che in questi 5 anni non è stata gestita l'ordinaria amministrazione, ho sempre presentato interpellanze sulla scarsa manutenzione stradale, ma faccio anche un passaggio sulla gestione dei rifiuti, una raccolta differenziata che non funziona bene, ho chiesto azioni migliorative ma non è stato fatto nulla e faccio anche un passaggio sulla pista ciclabile, a mio avviso andava pensata prima alla gestione ordinaria e dopo si poteva pensare a un'opera del genere, anche perché è contestata da tutti con giusta ragione, non è funzionale, non è praticabile e quindi a mio avviso un'amministrazione che non ha gestito l'ordinaria amministrazione e ci è stata proprio una vera e propria mancata programmazione.